Uomini e donne. Flirta in corso tra due famosi ex-faces of the overtrono? I video che fanno mormorare il web i due ex-protagonisti dello spettacolo degli appuntamenti hanno sempre avuto un forte legame. Ma ultimamente, flirtare in corso tra due ex-protagonisti del trono di uomini e donne? Secondo gli ultimi movimenti sociali dell'ex-dama Anna Tedesco, sembrerebbe che tra lei e l'ex-cavaliere Giorgio Manetti c'è qualcosa di più di una semplice amicizia. Se così fosse, sarebbe appropriato parlare di Fiamma Return. Considerato i precedenti tra i due. Anna e Giorgio. Infatti, durante lo spettacolo Appuntamenti di Maria De Filippi, tra il 2017 e il 2018. Avevano stabilito una relazione amicizia. E qui, anni dopo aver partecipato a Uomini e Donne. I due sono apparsi di nuovo insieme in alcune foto pubblicate da Anna. N. Il profilo Instagram dell'ex-signora. Che non ha mai condiviso i colpi in compagnia del presunto amico. Poco tempo fa il primo è apparsa la Giorgio. Nell'occasione del suo compleanno, il tedesco ha condiviso alcune immagini della festa. Lasciando il posto alle voci. Successivamente, Anna ha pubblicato una bobina contenente alcuni momenti trascorsi in compagnia di Giorgio. Probabilmente a Sanremo. Dove hanno cenato in un luogo vicino al mare. I due si sono mostrati in atteggiamenti di inequivocabile complicità. Con manetti immortalizzato mentre prende delicatamente Anna. Anna. Sotto lo sguardo attento dell'ex-naufragata Maria Laura De Vitis. Solo la presenza dell'ex-pupa ha fatto il dubbio sul fatto che si trattava di una cena con gli amici. Sollevando il dubbio negli utenti web. Questi sono divisi tra coloro sono convinti i due siano insieme. Consigliando l'insinuazione mossa da Galgani e invece afferma la loro è una semplice amicizia. Quale sarà la verità? Tutto ciò che rimane è aspettare chiarimenti dalle parti interessate.